238 scuole per l'infanzia nella marca, 784 sezioni con 18.600 alunni, 920 insegnanti presenti, 93 comuni su 95. Questa è la realtà della scuola materna paritaria trevigiana, numeri importanti che non si discostano del resto del territorio veneto. Una realtà in crisi a causa dei continui tagli e dei fondi stanziati ormai da mesi dal governo, ma per ora mai arrivati nelle casse della FISM. Così molti plessi scolastici sono rischio chiusura. Attualmente ci sono già delle difficoltà perché i 130 milioni stanziati noi confidiamo che arrivino, ma da un punto di vista finanziario non averli immediatamente significa avere delle difficoltà a onorare gli impegni, cioè a pagare gli stipendi, pagare i contributi, pagare tutti i costi che in questo periodo estivo saranno quindi totalmente a carico dell'ente. Per quanto riguarda invece il futuro, un eventuale taglio del 41% significa dai 33 ai 35 euro per bambino al mese da recuperare. Significa cifre importantissime che non possiamo scaricare sulla collettività attraverso il carico della famiglia. Nell'incontro a Padovano, avvenuto qualche giorno fa con l'assessore alle politiche sociali del Veneto, Remo Sernagiotto, si è parlato anche di federalismo scolastico, ma la strada per arrivarvi è ancora lunga. È un'avanzata volontà da parte della giunta regionale di procedere con il federalismo anche per quanto riguarda l'istruzione. Sicuramente i tempi non sono brevi, probabilmente ci vorranno dai 3 ai 5 anni, ma la cosa ci sembra interessante, però oggi a noi interessa essere vivi.